Ciao tifoso rossonero! Iscriviti subito al nostro canale per non perdere le ultime notizie del Milan e lascia un like per supportare il nostro canale. Forza Milan! Benvenuti al canale di notizie del Milan. Oggi abbiamo una notizia preoccupante per voi tifosi rossoneri. Raffaeleao, uno dei principali attaccanti del Milan, si è infortunato alla coscia durante la partita contro la Lazio. Questo lo mette in dubbio per l'andata della semifinale di Champions League contro l'Inter. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, Leao ha subito uno stiramento all'adduttore destro e potrebbe essere costretto ad essere assente dal campo per un po' di tempo. La sua assenza sarebbe un duro colpo per la squadra del Milan, piché è stato uno dei giocatori chiave durante tutta la stagione. Lascia già il tuo like per rimanere aggiornato su tutto ciò che accade al Milan, grazie. Senza di lui, il Milan ha una sola vittoria nelle otto partite che non ha messo a segno in questa stagione. Inoltre, l'anno scorso il Milan ha perso cinque partite senza di lui, dimostrando quanto sia importante per la squadra. Il Milan dovrà trovare una soluzione rapida per colmare la sua assenza, almeno per la prossima partita contro l'Inter. La squadra dovrà cercare alternative offensive e sperare che i giocatori rimanenti siano in grado di fare la differenza. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulla condizione di Leao e sull'andamento della squadra del Milan. Grazie per averci seguito. Ditemi, tifosi del Milan, cosa ne pensate di questa notizia? Lasciate qui la vostra opinione. Non dimenticate di premere il pulsante mi piace e iscrivervi al canale. Più tardi tornerò con le ultime notizie sul Milan. Forza Milan!